Ciao a tutti dal spectatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con un grandissimo regista, attore e non solo, Silvio Poglio. Salve, ciao, grandissimo, grandissimo, no, alla grande. Tu sei veramente forte, io ci compito, ho visto i due lavori, veramente qualcosa di speciale e salutiamo tutti i tuoi fans. Grazie, 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 Guido Superstar, che è questa tutta la vista, dobbiamo fare una cosa nuova con la roba, qualcosa di nuovo, il film che sto realizzando, niente di Guido una cosa nuova, finissima, forte, ma una cosa per me oggi, una grande bellezza per me oggi, mi piace questa, ottimo, stavo dicendo che io per un ruolo, mi hai ispirato per qualcosa, bravo, io mi propongo, fai un attore anche, sì, esatto, io mi propongo, mi piacerebbe lavorare bene, certo, do you speak English? Invitte English, no, va bene, meglio se non sai niente, perché è più facile per me per insegnare dialogo in inglese, adesso non l'ho mai fatto, così, ottimo, meglio. Io ti ringrazio anche altre volte per il ruolo inglese, male inglese, male inglese, e allora credo a poco, è così. No, la prossima tu dici, guarda, prendimi e poi ci pensiamo, ti piace la faccia, ti piace tutto, va bene, prendimi e poi ci pensiamo, la mia rete mi imparo tutto, tedesco, inglese, giapponese, cinese, tutto. Sei un grandissimo, grazie. Io ti ringrazio e ti regalo la manina del salutatore, questa è la manina del salutatore, così saldiamo tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie. E ricordiamo il tuo sito. Guarda, metto su YouTube Silvio Poglio, su Facebook Silvio Poglio, e abbiamo tante novità che questi giorni hanno pubblicato. intanto Facebook, e YouTube anche, IMDB, c'è tante per vedere, e divertiti. Ciao. Ciao.